Ehi, cos'è stato questo lampo, eh? Non lo so. Desdemona, ciao! Sta circolando una notizia interessante. Ah sì? E che cosa? Pare che tu abbia scoperto dove si trova l'istituto. E che tu l'abbia addirittura visitato. È molto probabile. Non trovi? Sì, proprio pazzesco. Sì, è proprio pazzesco. Però non lo neghi. Deacon ha la prova che hai usato un teletrasporto per entrare nell'istituto. Ah, Deacon. La fraternità d'acciaio ti ha permesso di entrare là dentro. Mi auguro che tu li stia spiando per noi. Certo, come no? Che tu sia ancora dalla nostra parte. Siamo mai stati alleati, Desdemona? Una missione cruciale che solo tu puoi completare. Te la senti? Siamo mai stati veramente alleati, io e te, Desdemona? Sentiamo. Sì, mi occuperò della missione. Non sai quanto speravo di sentirtelo dire. Quello che sto per rivelarti è il più grande segreto dei Railroad. È ora che tu sappia di Patriot. Nell'istituto c'è un uomo o una donna, non lo sappiamo, che aiuta i sintetici a tutti. Ah, quindi avete qualcuno dall'interno, eh? Lecine di sintetici gli devono la vita. Non sappiamo il suo nome e ne abbiamo modo di contattarlo. Quindi l'abbiamo nominato Patriot. Dovrà infiltrarti nell'istituto. C'è un'infiltrazione nell'infiltrazione delle infiltrazioni qua, eh? Come lo contatto? Come posso contattare Patriot? Tom ha trovato il modo di inviare un messaggio a Patriot. Inseriremo un messaggio in codice in un terminale dell'istituto. E, se tutto va bene, Patriot risponderà. Parla con Tom per sapere come procedere. Certo, Desdemona. Ma senti un attimo, c'è un altro problema da affrontare. Posso parlarti? C'è qualche problema? L'istituto sa di Bunker Hill. Però a questo punto... Ha senso che io te lo dica? Niente di particolare. Se hai bisogno di aiuto per procedere con l'infiltrazione, chiedi a me o a Tom tuttofare. A questo punto, chi è nel giusto? L'istituto che cerca di recuperare i sintetici? O loro che cercano di liberarli? O addirittura forse ha ragione la confraternita? Tutto questo è sbagliato. E niente di quello che stiamo facendo è giusto. Sicuramente non mi posso fidare di loro. Persino dicono, alla fine è venuto a dirgli che sono entrato nell'istituto. D'altra parte, non sono sicura che i metodi dell'istituto siano buoni. Per adesso, non ti informerò allora. Incredibile che tu abbia visitato l'istituto. Dentro la tana del leone. Beh, qua siamo nella tana del lupo. Se la cosa termina che ho dato un nastro modificato è proprio quello che mi serve. Tutto ciò che è sfuggito alle maglie dell'istituto vale oro. Per ora lo tengo io, scusami. Per ora lo tengo io. Come preferisci. Non voglio obbligarti. Bravo. Ah, beh certo, non vuoi avanzare se non ti do qualcosa. Certo, come no. Ehi. Allora, quel lolo nastro? Non c'è altro modo per controllare Patriot. Sicuramente ha ragione il padre. Siete dei fanatici. Non me l'hai chiesto, me lo stai obbligando a dartelo. D'altra parte, non mi sento di coinvolgere la confraternita in questa storia ancora. Andiamo a Bunker Hill. Guarda, dei super mutanti. Oh, non ci sono più super mutanti. Dicevamo. Ehi sintatico. Ti stavo aspettando. Qual è la situazione? Allora, qual è la situazione? Immagino che tu sappia già tutto. I nostri bersagli sono all'interno. Quattro sintetici sotto la protezione dei railroad. La maggior parte degli abitanti dell'insediamento non è coinvolta. Mi aspetto che si mettano al riparo. Lo spero per loro. La situazione sembra essere precipitata. Un approccio furtivo sembra impossibile. Entriamo. Prendiamo i sintetici e io effettuo il teletrasporto con loro verso l'istituto. Tutto chiaro? Passami alcune granate prima. Ehi, mi serviranno alcune delle tue granate. Passamele. Bene. I nostri bersagli sono ospitati da un uomo di nome Stockson. Ah, il vecchio Stockson. Avremo a disposizione rinforzi limitati. Usali soltanto se necessari. I parametri di missione sono cambiati. Entriamo ad armi spianate. Richiedo il teletrasporto di rinforzi. Beh, vorrei evitare che la gente mi riconosca. Non vorrei, sai, che mi attacchino poi. Meglio coprirsi per bene. Via, all'attacco. Bruto dei railroad, eh? Beh, a sto punto combattete pure voi. Io vado avanti. Questa è chiusa, ovviamente. E allora facciamo come fanno gli acrobati. Si entra da dentro. Beh, loro pensano che io sia un alleato. E a lui non frega esattamente nulla di tutta questa situazione. Fino ad ora, perlomeno. Vedi cosa succede a non dire che sei da una parte o dall'altra? Ehi, Stockson, ciao. Hop, è come un mago. Nessuno sa che io sono il nemico di nessuno. Bella madonna, che casino sta succedendo qua dentro. Porca miseria, le torrette. Ma... Ah, è un... Ma perché c'è un membro della bomba permita? Donde va arrivato? Perché è qua? Io sono amico di tutti. Oh, poverino, è caduto. Beh, io proseguo, se non vi dispiace, allora. In un certo qual modo è quasi interessante vederli ammazzarsi fra di loro. Forse sono più sadico di quanto in realtà io non sia. Beh, eccoci arrivati, alla fine. Eccoli. Dio, è un predatore! Oh no! Utilizza i codici di ripristino e potremo effettuare il teletrasporto verso l'istituto. Il fattore tempo è vitale. Sai, non mi sembra giusto. Tu, sintetico. Ti prego, per favore, non farlo. Perché hai paura? Perché hai così tanta paura? Non voglio tornare indietro. Ti prego, non costringermi a tornare indietro. Tu invece. Va bene, sintetico. Per favore. Perché non vuoi tornare indietro? Perché non vuoi tornare indietro? Io... Io non lo so. Volevo... La mia vita, credo. Tu invece? Ti stavo cercando. Ho del denaro! Se mi lasci andare è tu! Non mi serve il denaro. Non è quello che voglio. Infine, tu. Niente movimenti bruschi. Ti prego, no! Cosa c'è che non va? Che c'è di così brutto all'istituto? Io... Io non ce la facevo più. Certo, tutto qui è una motivazione certamente valida. Questi non li trattano certo coi guanti. Però voi avete preso i posti di persone che erano vive una volta. Sai che c'è? Siete tutti sbagliati. Voi, lui, i Railroad. Non mi sento di giudicarvi colpevoli di qualcosa che non avete fatto. D'accordo. Siete liberi. Calmati. Puoi andare. Davvero? Non posso permetterti di liberare questi sintetici. Ah sì? Ora ti terminerò e poi segnalerò le tue azioni. Chi vuoi terminare, tu? Potete andare, ma non fatevi più vedere. D'accordo? Non mi fido ormai neanche più dei Railroad. Ehi là, Sean. Immagino tu abbia visto tutto. Non so cosa pensi ora di tua madre. Ma guarda questo posto. Guarda questo mondo. Credi che fosse ciò che io volevo darti? Credi davvero che io avrei voluto tutto questo? Io volevo solo una vita normale. Con te e tuo padre. Invece ora, dobbiamo vivere con tutta questa gente che vuole sopravvivere. Certo, ci sono mele marce, come quella lì. Ma ci sono anche delle mele buone in giro. Persone che vogliono solo sopravvivere. Vivere la loro vita. Vuoi davvero giudicarle tutte? Vuoi davvero giudicare anche quei sintetici che sono solo scappati dal controllo vostro? Volevano anche loro la loro vita. Anche quel predone sicuramente vuole la sua vita. Ma per avere la sua vita è disposto ad ucciderne altre. Qui si parla di autodifesa. Non di cambiare il mondo. Per difendere quelli che ami, le persone sono disposte a tutto. Ora, Sean, che cos'hai da dirmi? Sai, in tutta la mia vita non ho mai messo piede fuori dall'istituto. Non una sola volta da quando mi hanno portato qui. Non ho mai avuto motivo di farlo. Ora però, questo non fa che confermare la verità che ho sempre saputo. Il Commonwealth è morto. Non c'è futuro qui. L'unica speranza per l'umanità è nel sottosuolo. Mi dispiace, ma non è così, Sean. Allora perché sei venuto fuori? Allora perché venire qui fuori? Per vedere le cose nella giusta prospettiva, credo. Essere qui mi ricorda quanto sono stato fortunato nello sfuggire a una vita in questa desolazione. So che dal tuo punto di vista sono stato rapito da quel vault. La realtà però è che l'istituto mi ha salvato. Ci ha salvato entrambi, a dire il vero. Mi hanno diviso da te però, per 60 anni. Mi hanno lasciato sotto ghiaccio. Per 60 anni. L'hanno fatto, sì. E per un buon motivo. Certo, per tenermi come riserva. Io ero il candidato perfetto. Un bambino dal DNA incorrotto. Ma se qualcosa fosse andato storto, se fossi morto... Ma ti senti? Senti quello che stai dicendo. Un piano di emergenza. Un'altra sorgente di DNA pre-guerra, preferibilmente legata al soggetto primario. Ah, certo. Una sforna bambini. Ma ti senti? Senti quello che stai dicendo. Avresti potuto farlo decenni fa. Avresti potuto farmi uscire decenni fa. Prima di diventare direttore, non avevo idea che tu fossi là. E poi, inizialmente, non c'era alcun motivo logico. Neanche vedere i tuoi genitori. Non era necessario mantenerti in animazione sospesa. E io... Beh, io volevo vedere che cosa sarebbe accaduto. Cosa sono? Un esperimento? Il Commonwealth avrebbe corrotto anche te? Come corrompe ogni altra cosa? Avresti saputo restare in vita? E poi, forse, la cosa che mi incuriosiva di più. Dopo tutto questo tempo, mi avresti cercato. Ora conosco la risposta. Sean, per te sono passati 60 anni. Per me dalla tua nascita non è passato neanche un anno. Dimmi, ne valeva la pena? Spero che tutto questo non sia troppo per te. Troppo? Sentirsi dire dal proprio figlio di essere solo un altro esperimento? Quindi io per te... Alla fine sono soltanto un altro esperimento? No, assolutamente. Comunque... Sono felice che le cose siano andate in questo modo. Presto, spero... Capirai tutto quanto. Tutto ciò che ho fatto è per il futuro. Un futuro che spero non sia a rischio, dopo i recenti accadimenti. A Bunker Hill le cose non sono andate bene per noi. Ti spiacerebbe spiegarmi cosa è successo? Ha importanza. I Railroad ovviamente ci aspettavano. Siamo caduti in un'imboscata. Ci stavano aspettando. Immagino tu capisca che faccio molta fatica a crederci. Visto che tutte le informazioni indicavano che li avremmo colti di sorpresa. Bunker Hill avrebbe dovuto dimostrare che sei un elemento utile per l'istituto. Ora l'accaduto non farà che sollevare sospetti. Se poi penso al coinvolgimento della confrattata... Ah, quello non c'entro io. Non potevano in alcun modo sapere cosa stava succedendo. Per il momento non metterò al corrente dell'accaduto il direttorato. Sono già in moto degli eventi che rischierebbero solo di peggiorare. A proposito... È ora che tu giochi un ruolo maggiore nel futuro dell'istituto. Vorrei che mi raggiungessi all'interno. C'è un incontro del direttorato al quale dovresti prendere parte. Ti aspetterò là. Ho visto abbastanza. È ora di rientrare. Quindi, questo sono. Sono solo un esperimento. Nessun genitore dovrebbe sentirsi dire queste cose. E tu non credere di esserti salvato. Tanto meno tu. Sono davvero una donna infuriata. E ho un fucile in mano e pieno di munizioni. Non credere che le risparmierò. Dopo tutto quello che è successo, non crediate che io abbia un buon umore ora. Perfetto. Credo di essermi calmata finalmente. Dopo essermi sfogata, credo che sia il momento di pensare a mente più lucida. Devo prendere la mia decisione ora. Devo andare. Devo scegliere ciò che è giusto fare.